Musica Un giovane talento sandonatese, prestigioso riconoscimento ricevuto qualche giorno fa da Angelica Bianchi, 12enne di Sandonà di Piave, con una grandissima passione per la danza, tanto da portarla ad allenarsi in Emilia-Romagna. La ragazza nei giorni scorsi ha partecipato alla terza edizione dell'Italian Star Ballet, evento sportivo di carattere internazionale che ha visto partecipare al Palamariotti di La Spezia 4.000 atleti da tutta Italia con relativi accompagnatori. Ad aprire la due giorni di eventi è stato il celebre galà della danza sportiva, esclusivamente dedicato alle danze Ido, una serata che ha visto esibire i migliori ballerini nelle diverse discipline artistiche, oltre alla premiazione dei vincitori del circuito Ranking 2022. Il galà è stato quindi anche l'occasione per la consegna dei Dance Sport Awards per le categorie atleti, coreografi, dirigenti, organizzatori, nonché personalità illustri del settore. Tra i premi assegnati, uno è stato conquistato proprio dalla giovanissima Angelica, che tra le attività quotidiane frequenta l'Istituto Comprensivo Romolo. Non riesco a disfando la sua grande passione, frequenta la scuola di ballo Top Dance Freedom di Altedo in Emilia-Romagna, dove si allena costantemente col tecnico e giudice federale Alex Zampierollo. Angelica è stata premiata fra i maggiori esponenti dell'anno 2023 per aver ottenuto nella classifica finale quattro ori nel circuito Ranking Nazionale e una finale nel circuito di Ranking Internazionale nella sua categoria 10-12 Dance Latin Style. Iesolo è pronta a trasformarsi nella città del Natale. Lunedì 6 novembre inizieranno i lavori di allestimento nel villaggio di Natale, il grande evento che animerà Piazza Mazzini, Piazza Aurora e Via Silvio Trentin. Complessivamente saranno installate 75 casette, dalle quali verranno ricavate 13 postazioni con casetta doppia da di birra a punto di ristoro. Un dato significativo considerando che, come già avvenuto l'anno passato, l'amministrazione comunale aveva fissato un massimo del 40% degli spazi da destinare alle attività di somministrazione alimenti e bevande con l'obiettivo di privilegiare l'artigianato e la vendita di prodotti enogastronomici della tradizione locale. Le due piazze, come di consueto, rappresenteranno i due poli del divertimento, soprattutto per i più piccoli con le giostre, la pista di ghiaccio, in numerosi momenti di intrattenimento con eventi musicali, sfilate, caccia al tesoro, spettacoli natalizi anche sul ghiaccio. In Piazza Aurora i bambini troveranno la casa di Babbo Natale e anche il suo ufficio postale dove potranno giocare con gli elfi e scrivere le letterine a Babbo Natale. Il vellaggio di Natale sarà aperto al pubblico a partire da venerdì 1 dicembre con la cerimonia ufficiale ed inaugurazione e la tradizionale accensione del grande albero addobbato di Piazza Mazzini fissata per domenica 3, un mare di luci e colori festosi che illumineranno il Lido fino a domenica 7 gennaio. Un nuovo assessore per Mirano si tratta dell'ormai ex consigliere comunale Federico Rainer Maurizio Caldura che avrà deleghe alla pianificazione amministrativa e finanziaria, alla digitalizzazione, alle politiche familiari e all'ambito territoriale e sociale. In un periodo in cui i bilanci dei comuni sono messi a dura prova dagli aumenti dei costi energetici e dall'inflazione, Caldura ha le competenze e le energie giuste per occuparsi di questi temi, commenta il sindaco Tiziano Baggio. Considerati l'attuale momento di difficoltà finanziaria della pubblica amministrazione, nonché l'evoluzione delle modalità di erogazione dei servizi sociali, aggiunge il primo cittadino, penso sia necessario focalizzare l'azione dell'amministrazione comunale su una sempre più approfondita pianificazione delle attività sulla digitalizzazione dei servizi erogati, in modo da recuperare efficienza. Caldura si è laureato in scienza politica all'Università degli Studi Trieste e in economia e indirizzo governance delle organizzazioni pubbliche all'Università Ca' Foscari di Venezia. Precedentemente ha svolto attività di ricerca presso il Consiglio regionale del Veneto. La polizia di frontiera nei giorni scorsi durante i controlli sui passeggeri ha arrestato un cittadino straniero con precedenti anche per minacce in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare. L'uomo è stato fermato all'aeroporto Marco Polo di Tessera perché su di lui pendeva una condanna per atti persecutori emessa nel luglio 2021 dal Tribunale di Padova. Dal 2019 al 2020 lo straniero aveva tenuto un comportamento violento nei confronti della vicina di casa avendo addirittura tentato di investirla con la propria auto. La donna aveva più volte denunciato l'uomo nei confronti del quale erano risultate inefficaci le misure cautelari tra cui l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di avvicinamento alla persona offesa. L'uomo deve scontare una pena di otto mesi di reclusione ed è stato accompagnato nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia. Conto alla rovescia per l'atteso appuntamento musicale a Jesolo con Giorgia. La cantautrice romana, voce fra le più amate dal pubblico, salirà sul palco del Palazzo del Turismo sabato 4 novembre inizio ore 21 per la data 0 del suo nuovo tour Blue Live Palazzo Sport che toccherà il Palazzo Sport delle principali città italiane. Giorgia Todrani, semplicemente Giorgia, classe 1971, ha alle spalle oltre 20 anni di carriera artistica nella quale ha ottenuto 25 dischi di platino consegnando alla storia una serie di brani senza tempo che hanno conquistato il cuore di milioni di persone. Grazie alle sue straordinarie doti vocali è stata nominata dalla rivista statunitense Billboard America la quarta voce più grande e più bella del mondo. Nel corso degli anni ha collaborato con importanti artisti italiani e internazionali tra cui, solo per citarne alcuni, Luciano Pavarotti, Ray Charles, Lionel Ricci, Giovanotti e Mina Zucchero. In Italia ha venduto circa 7 milioni di copie con 12 album nella top 10 italiana 5 dei quali arrivati al numero 1 e 25 singoli top 10 di cui 5 numero 1. Ha partecipato in totale 4 volte al Festival di Sanremo ottenendo nella categoria Biggie il primo, il terzo e secondo posto. Nell'edizione del 1995 in cui risultò vincitrice con Come saprei fu la prima cantante nella storia del Festival a conquistare 4 premi. Il livello del Piave è in rapida crescita in tutto il San Donatese in attesa del passaggio del Colmo di Piena previsto anche oggi pomeriggio. Nella notte sono stati chiusi al transito delle auto i due ponti di barche quello di Noventa Fossalta e quello tra Cortellazzo e Deraclea. A Noventa è stato attivato il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile per provvedere alla chiusura del varco arginale. Livelli elevati dei fiumi sono segnalati anche nel porto Gruarese tra Livenza, Lemene e Tagliamento. Per quest'ultimo in realtà la piena attesa nella serata alle 18 dovrebbe transitare alla Tisana. Nella notte si sono verificate anche nuove mareggiate con le onde che appunto si sono spinte a Jesolo fino alla passeggiata e a Bibione sotto piazzale Zenit come nel nostro precedente servizio. Angelo Branduardi in concerto venerdì 24 novembre alle ore 21 e 15 al Teatro Corso di Mestre. Confessioni di un malandrino è un live acustico che restituisce la dimensione più intima e le emozioni più profonde dell'arte del grande menestrello della canzone italiana e che ripercorre in una veste insolita non solo i suoi brani più famosi ma anche pezzi rari e chicche attinte dal cassetto della memoria. Ma non solo, una parte dei brani che verranno eseguiti è tratta dagli album che compongono la collana Futuro Antico progetto con il quale Branduardi ha ripreso composizioni tematiche dei secoli passati attraverso un lavoro di ricerca filologica musicale. Ad attendere il pubblico del Teatro Corso oltre 100 minuti di note e magia in cui la chitarra e il violino di Angelo si accompagnano alla piccola orchestra di Fabio Valdemarin. Oltre al pianoforte a coda suonerà chitarra e fisarmonica. Le spiagge del Veneto orientale fanno i conti con i danni causati dalla mareggiata della scorsa notte. Anche se la marea stavolta non è stata altissima il forte vento con picchi anche di 80 km all'ora hanno fatto sì che a Bibione la cresta d'onda facesse arrivare l'acqua fino al ridosso di Piazzale Zenit. L'acqua è risalita fino alle dune e stamane la spiaggia si presenta con ristagni in più punti. Il persistere dell'acqua sulla battigia rende impossibile ai tecnici di Bibione Spiaggia di fare un sopralluogo per capire l'entità dei danni. Se ne riparlerà quando l'acqua si sarà ritirata. Stamane avrebbero dovuto operare in spiaggia alcuni mezzi per finire di trasportare via dei materiali ma non è stato possibile per il rischio di rimanere impantanati. In attesa della quantificazione si parla di molta sabbia erosa e migliaia di metri cubi di legna da smaltire. La risalita dell'acqua ha causato infiltrazioni anche alle strutture di alcuni chioschi sulla spiaggia. Chiuso l'accesso all'arenile a causa di allagamenti in corrispondenza della camminata a mare. A Jesolo stamane è sopralluogo del sindaco Christopher Dezotti che ha voluto toccare con mano la situazione in particolare nella zona est del litorale tra Cortellazzo, Pineta e lungo il Piave per verificare la situazione e i danni. Al momento la situazione risulta essere sotto controllo ma rimane attivo il centro operativo comunale della protezione civile di Jesolo. A Jesolo sono stati segnalati danni da vento a stabilimenti balneari privati a marciapiedi limitrofi con erosione delle dune presso l'arenile in corrispondenza di Piazza Torino Camping Village Oikiki e stabilimento Mervil. A Caorle segnalati danni da vento di lieve entità. Grazie a tutti.